Ezechiele 25, 17 Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malpaci. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Grazie! 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 Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così. Sono il Signor Wolf, risolvo problemi. Ah bene, ne abbiamo uno. Me l'hanno detto, posso accomodarmi? Ma sì, la prego, entri. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.